Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video. Teo Teocoli, il celebre cabarettista e amato volto dello spettacolo italiano, ha aperto uno squarcio nel suo mondo privato, dominato dal rosa, con sole donne a tavola. Le tre figlie, Anna Adele Letizia, Paola e Chiara Teocoli, sono protagoniste di questa affascinante storia familiare, nate dal matrimonio di Teo Teocoli con la sua inseparabile compagna Elena Fachini, più giovane di quasi due decenni, le tre sorelle incarnano il riflesso della sua vita oltre le luci dei riflettori, la primogenita, Anna Adele Letizia, ha visto la luce nel 1989, seguita nel 1991 dalla giovane Paola, mentre Chiara, la, piccola di casa, è del 1992. Sebbene il palcoscenico sia la loro seconda casa, la vita privata delle figlie Teocoli è celata da un velo di riservatezza. I loro profili Instagram fungono da misterioso scrigno, accessibile solo con il consenso delle dirette interessate, in un'intervista a Silvia Toffanin per Verissimo, Teo Teocoli ha dipinto un affettuoso ritratto familiare, gettando luce sull'ironia che permea la sua quotidianità, ho tre figlie femmine, il, castigo, è stato quello. Prima di tutto, ho passato 20 anni a tavola a sentire i loro discorsi, impossibile entrarci perché parlavano sempre di cose loro con la mamma, Elena è giovane. Questa incursione nella vita di Teo Teocoli e delle sue tre figlie ha regalato al pubblico uno sguardo affettuoso dietro le quinte di una famiglia dove il colore predominante è, senza dubbio, il rosa.